Nella prossima giornata di Serie A, quando il traguardo si avvicina, ogni sforzo diventa determinante, ogni palla diventa fondamentale e uno scontro diverso può decidere una stagione. Roma-Napoli Una trasferta insidiosa Un avversario difficile Per uscire da una situazione complicata, al Diavolo Rosso Nero servirà un colpo di cola Palermo-Milan Quando ci sono i campioni Quando c'è la passione Quando il gioco è travolgente Questo È lo spettacolo del calcio Fiorentina Sampdoria Nella prossima giornata di Serie A No, no, no!